yuki a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi insieme al miglior sponsor dell'universo magiccorner.it e andiamo ad aprire il miglior prodotto dell'anno detto questo non voglio scendere in altri preamboli perché nel caso c'è il video anteprima fatto con konami e andiamo subito a spacchettare perché diciamo che stai cercando playset the prosperity the droplet the lightning the ash the ogre the gross out the bell nel senso mi sarò un po' di roba detto questo namo allora ragazzi questo è l'ultimo team che completa la tavola del millennio quindi ragazzi se non avete gli altri due pezzi recuperatemi subito su car market costano una miseria solo la scatola detto questo andiamo con il primo pack non ricordo nel trick né il pull mi sembra ci siano due ultra e una secret e andiamo a vedere allora vabbè ragazzi le comuni non le andremo a vedere perché sono usciti 15.000 pack opening e io l'ho anche già realizzato quindi andiamo alla roba grossa eh tremora cilindri magicali incubo occhio scuro cucciolo di fango drago e come secret abbiamo saggia sceso vabbè niente un po' di paltina tattica tanto perché non ne ho abbastanza dei team ma vabbè siamo solo al primo pack del primo team quindi può succedere qualsiasi cosa può uscire qualsiasi cosa ci può essere anche una doppia prosperity abbiamo albium gsmac roba il candolo siciliano ma vabbè palta palta lama binaria ostri molto bellino super ma no è vero esisteva comune quindi bellino per realizzare planteries poi abbiamo miradora carina come carta non si è mai giocata però nel senso l'effetto è simpatico ricostru cervo e come secret deo del mondo sotterraneo mondo chiuso vabbè non sta tantissimo però comunque è un'ottima carta che usciva in blazing vortex quindi tanta roba mettiamola da parte considerando poi che i team coperto con la sponsorizzazione con konami sono andati relativamente male considerando quello che c'è dentro almeno a sto giro mi aspetto qualcosa di un po' grosso eh ma ovviamente in giornata vi aggiornerò ovviamente su instagram andrò ad aprire il live su twitch ben 10 case di team quindi ragazzi non mancare e ovviamente trovate il link in bio eh quindi non mancare e se avete amazon prime cioè li potete subare gratuitamente allora tragedia sushi carta live twin vesiculo tuccan ultra bellino come altra ultra abbiamo drago codola pyran e come secret abbiamo drago armato tono livello 7 vabbè cazzo l'hanno fatta comune che merda almeno ultra potevano farla questa è una secret che usciva in bio vabbè peccato peccato allora adesso apro gli altri e ci rivediamo tra un secondo bene abbiamo i nostri altri 15 pacchetti e andiamo a vedere se la prosperity l'ho beccata io o luca andiamo con il prossimo pacchetto e vediamo cosa ci esce allora fuffa 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 potrebbe essere dragoon o quentis di spiano allora impin carino super poi abbiamo carta live twin costruzione zexal palta enforcer ottimo ottima carta tanta roba peccato che a sto punto potevate metterci qua dentro anche le test infusion eh invece le famme le recupero a parte ma vabbè allora e per il resto niente più che altro io all'interno di questi team visto la mole di entrap che ci sono state messe ci avrei inserito anche le level che iniziano a costicchiare tanto e come carta è veramente ma veramente forte quindi diciamo che una reprint tattica ci stava eh poi che ne sai forse che la mettono all'interno dello strutture nuovo dei draghi bianchi quindi anche se ci starebbe comunque eh insieme all'alternativo che cioè attualmente costa una fracca e mezzo di soldi che palle oh un altro fuff mirai dai c'è tre carte che cerco quattro perché vorrei vedere qua ragazzi voglio morire diciamo che c'è stato un blocco un blocco nel video perché c'è un computer del merda che non riesce a tenere in funzione due telecamere ergo c'è stato c'è stata una perdita una perdita molto grossa perché mentre spacchettavo la merda su merda su merda a parte che è uscito un shifter e un masquerade è uscita vabbè la torre dei duelli che è carina carta dell'anime ma è uscita una carta è uscita una cazzo di carta che ovviamente voi non avete visto perché? perché il computer non ha funzionato porca troia vabbè carta incredibile aspettavo solo questa che sicuramente mi ha ribaltato il pack opening perché diciamo attualmente non stava andando benissimo eh ma vabbè vabbè non ci lamentiamo e andiamo avanti sperando adesso negli ultimi 5 pack di beccare un'altra prosperity o una dropple allora abbiamo vaporizzatore un panda un coniglio un mago un marchiato in bianco merda 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 mamma mia architipo più brutto della storia no? belli hardcore ma sono indecente la vera divinità del sole e questa è una delle carte nuove forse è un di quelle che cercava mangaka anche se lui diceva le nuove divinità questa non è una divinità vabbè niente di singhia mangaka le voglio bene poi oh bello costogre tanta roba eh secret è incredibile vorrei farvi vedere bella che è ancora più bella cioè ok secret ci sta normale ma secret parallel è incredibile è una carta bellissima abbiamo ancora due quattro cinque pacche comunque prima vi stavo raccontando che giracchiando sul market mi sono reso conto che la prosperity reprintata stava a 50 euro ho detto cazzo vediamo a quanto sta quella da pacca vedo c'era un pazzo un italiano l'aveva postata in inglese a 50 canta cazzo ritiriamo subito prendiamo assolutamente la carta non lasciamocela scappare e adesso mi arriverà un bel playset da pacca me lo gioco e quelle secret se vendono spettro cottura e arriviamo alle super abbiamo alta arte del rituale vesciculo insetto mangia uomini falso maradora ancora carta onesta e vediamo come secret ma è il terzo è il cazzo di terzo drago armato del tono livello 7 cioè parliamo konami ok che tutte le secret sono uguali però dammi le altre non quelle che già ho in più e più e più copia potrebbe essere una cioè una cosa carina da avere esempio se tu mi dai le carte dell'anime tipo il nuovo drago bianco il nuovo drago nero la maganera e tutte quelle altre carte che sono le ripinte di animation chronicle sarei molto contento invece no 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 te devi dà per forza sta merda guarda ecco albion ok oh sushinave shari bellino suo fratello è venuto al concerto del comico me poi il resto fa abbastanza schifo e comunque non mi posso lamentare assolutamente perché ho trovato l'enforcer e prosperi che poi vabbè ogri shipper nibiru e non è male però nel senso una bella droppetta lettina non ce potrebbe stare tanto passa la moto che da se a fa se io lo bocchini da solo invece di rompe i coglioni a me che sto registrando allora mossa finale goki poi abbiamo cartasone avalon daphne custode dell'abisso come altra ultra predazione alfa e kit bellina vabbè so anche a chi darla che me l'aveva chiesta apposta però nel senso non è questa la carta che cerco ultimi due pack allora vediamo a questo giro cosa esce allora colpo del tuono drago armato fulmine drago armato gunkan sushinato terrori sotto le radici vento strega campanella tu e io gemella solar vite meckry lascia scorta infanto scuro e un'altra idea del mondo sotterraneo che vabbè abbiamo il 2x allora rimane un ultimo pacchetto confido in lui nel lightning storm tattico 2x e vediamo cosa esce allora cronomalia globo magellara no magella hiperton giudizio del marchiato il favoloso tradimento metalfosi vaporizzatore acerefatato rondine lenta pegaso sciabole gemelle altra ultra totalmente inutile altra ultra totalmente inutile vediamo la secret piccolo mondo vabbè abbiamo chiuso con una carta decente ci posso sta non me non me non me la metto dai allora allora bene facciamo un piccolo recap di cosa ho sbustato perché almeno vi faccio vedere anche quello che il computer ha deciso prontamente di tagliare allora a parte le super che fanno totalmente schifo tra le ultra decenti abbiamo vabbè miradora che non è poi così male lo abbiamo tipo in 2x poi nibiru che alla fine ci sta poi vabbè link tribri la vera divinità del sole che a qualcosina potrebbe stare e dov'è c'avevo pure uno shifter da qualche parte vabbè shifter perso totalmente ragazzi se devo essere sincero alla fine tra le secret è andata cazzo molto bene perché abbiamo 2 del mondo scuro mondo chiuso poi piccolo mondo questo fa schifo enforcer anche questa non è male fafnir questi draghi armati che è meglio non vederli più drago rosa carmino apertura marchiata ecclesia la virtuosa prosperity torre dei duelli ecco lo shifter mancante un altro saggio scuro orco fantasma e coniglio della neve secret che è incredibile altro si schifi albion e kit comunque alla fine parliamone cioè la plussata è stata fatta ragazzi ovviamente come vi avevo già anticipato nel video fatto con konami questo prodotto è incredibile se dovete ricominciare a giocare a yugi se avete già iniziato ma non avete tutte le staple o se siete già giocatori navigati ma volete provare a montarvi i clandris a poco questo prodotto è il prodotto che fa proposte alla fine se trovate qualcosa e non vi serve tranquilli sicuramente avete trovato qualcosa che serva a qualcun altro sfortunatamente le tre import che volevo la maga nera il mago nero e il drago bianco non sono uscite volevo sinceramente farvele vedere perché sono incredibili quindi nel caso ci vediamo più tardi su twitch per sperare di sbustare fatemi sapere qua sotto nei commenti voi cosa avete sbustato e nel caso se vi servisse qualcosa magic corner sotto in descrizione ha codice 2022 cappello per ottenere il 10% di sconto su tutti i prodotti non soggetti ad alcuna offerta detto questo state mi easy e noi ci rivediamo settimana prossima sempre qua con un nuovo video ciao a tutti